Nelle sale e tra i reperti del Museo Archeologico Mecenate di Arezzo è tornato Nelle Pieghe del Tempo, un percorso promosso dalla Libera Accademia del Teatro in sinergia con la direzione regionale Musei della Toscana, che prevede sei spettacoli in programma sino a domenica 5 febbraio, dove il museo sarà palcoscenico, inedito e suggestivo per gli allievi dei corsi avanzati della storica scuola cittadina, che metteranno in scena interpretazioni originali e domaggi ai grandi autori classici con varie scritture drammaturgiche. È un modo per avvicinare al nostro museo i giovani, che normalmente non lo inseriscono nelle proprie abitudini, e invece in questo modo credo che sia una bellissima opportunità per scoprire che anche il museo può essere loro vicino e suscitare interesse, stimoli e curiosità. Tra gli appuntamenti in programma confessioni spudorate con la regia di Uberto Kovacevic. Anche con un cacciavite appuntito? No, con un cacciavite no. No, e perché no? Ti ho detto di no. L'omicidio. Ci sono degli assassini tremendi in giro e stasera saranno qua, in questo museo, e spudorati come non mai racconteranno chi hanno ucciso e perché lo hanno fatto. Hai capito? In questo modo lei vuole raccontare pezzi neri di storia? Sì, pezzi neri di storia, ma anche begiolini, a seconda dei motivi. Sì, sì, perché il colore è cangiante. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.